Buonasera, buonasera, il telegiornale parte, non ci crederete, ma dall'ennesimo botta e risposta polemico, e questa volta anche insultante, tra Salvini e Di Maio. Cosa è successo? Che già ieri sera Salvini aveva detto, se fosse per me andrebbe cancellato l'abuso d'ufficio, un reato contestabilissimo, dice il leader della Lega, per cui tutti i sindaci, tutti gli amministratori hanno un po' le mani legate rispetto a quello che vorrebbero e potrebbero fare in termini di firme, permessi, eccetera. Non l'avesse mai detto, sin da ieri sera tardi, per dire il vero, ma per tutta la giornata il Movimento 5 Stelle ha attaccato la Lega e il suo leader, perché è inammissibile, inconcepibile per i 5 Stelle che si tocchi quel reato, che si cancelli quel reato. Il più duro è stato proprio Di Maio, con un lungo post su Facebook che si concludeva, perdonatemi, cito testualmente, più lavoro, meno stronzate, cioè pensa a lavorare e non a dire queste fesserie, forse sarebbe stato meglio dirlo direttamente così. Ebbene, che cosa è successo d'altro? Che in realtà si è visto che ovviamente le forze politiche sono state costrette a inseguire su questo argomento. In una giornata che però doveva essere in realtà proprio sul tema della giustizia più concorde e rispettosa, perché era il giorno delle celebrazioni a Palermo dell'anniversario della strage di Capaci, della morte di Falcone e quindi anche dell'uccisione di Borsellino. E il ricordo però è stato purtroppo non concorde, ma anzi diviso, come sappiamo, con polemiche, defezioni e contromanifestazioni. Peraltro, una cosa positiva, c'è stata sicuramente a Palermo l'incontro tra Salvini e quella professoressa che era stata sospesa per quella ricerca fatta dai suoi studenti sulla storia, una storia che ben conoscete. Bene, a quanto pare c'è stato un chiarimento non soltanto formale, lunedì peraltro comunque la professoressa sarebbe tornata all'insegnamento e probabilmente non ci sarà la cosa più odiosa che era la detrazione di parte dello stipendio. Ma non solo, quanto ha detto la stessa professoressa, si è parlato in termini molto pacati e positivi. Vedremo però che la tensione che c'è stata per alcuni aspetti a Palermo c'è stata in pieno a Genova dove c'era un comizio di Casa Pound che c'è stato peraltro ma sotto i lacrimogini anche perché c'è stata vicina una contromanifestazione antifascista. Genova è città, medaglie d'oro della resistenza e ci sono stati anche feriti e arresti. Si vota già in due paesi, si sta finendo di votare in Gran Bretagna e in Olanda, proprio per il Parlamento europeo. Secondo quella che è la consuetudine in quei paesi si vota di giovedì, ma in Gran Bretagna non sapremo nulla fino a domenica sera. Mentre già stasera, a metà serata, ci saranno gli exit poll su com'è andata a Amsterdam, a Malaya, nelle altre città olandesi. Poi ci sono tante altre notizie, ma chiuderemo con una voce che ha fatto sobbalzare, girare la testa all'intero calcio italiano. Davvero Pep Guardiola, forse il più grande allenatore del mondo, può arrivare alla Juventus? 30 secondi titoli. L'abuso d'ufficio scatena all'ultimo scontro tra gli alleati di governo. Salvini vorrebbe eliminarlo, ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati, dice. È una proposta per salvare qualche amico dalla condanna, replica Di Maio, con tanto di parolaccia finale. Più lavoro e meno stronzate, l'abbiamo già detto. Salvini rilancia e parla di cambiare la norma per Di Maio e retromarcia. Insomma, questo è il clima a tre giorni dal voto, ma il governo va avanti, dicono comunque tutti e due. E anche l'anniversario della strage di Capaci è finito per essere un momento purtroppo non unitario. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, diserta la celebrazione ufficiale in polemica con il governo, presente con il premier Conte e il ministro degli EI interni. Salvini, e peraltro Salvini ha incontrato quella professoressa sospesa per la famosa ricerca. A Genova, dove era in corso un comizio elettorale di Casa Pound, scontri tra manifestanti antifascisti e polizia. Gli agenti hanno usato lacrimogene per disperdere il corteo. I manifestanti hanno risposto a lanci due oggetti e vettie. Ci sono arresti e feriti. Olanda e Gran Bretagna, già al voto oggi per le europee, ma per il Regno Unito, a tre anni dal referendum che ha visto prevalere la Brexit, è una piena contraddizione. E la May potrebbe essere alla vigilia delle dimissioni da premier dopo lo stallo politico che va avanti da mesi per il mancato via libera parlamentare all'accordo concluso dalla stessa May con Bruxelles. Dalle urne intanto c'è la possibilità di una forte affermazione proprio per il partito che prende nome dalla Brexit. Parla con i suoi. Una voce clamorosa scuote il mondo del calcio e anche quello finanziario, visto che si parla della Juventus che è quotata in borsa. Davvero può arrivare il grande Pep Guardiola, l'allenatore che ha reso forse memorabile il ciclo del Barcellona del Tiki Taka, che ha vinto al Bayern e ora col Manchester City in Inghilterra. Ci sono smentite da Manchester, ma non dall'interessato e dalla Juve e il titolo fa su e giù in borsa. Buonasera, quindi fino all'ultimo, anzi penultimo, visto che oggi è il penultimo giorno di campagna elettorale, botte senza nessun rispetto tra i due alleati di governo. Questo senza nessun rispetto può sembrare una locuzione esagerata, ma adesso sentite voi. Si chiama abuso d'ufficio, l'ultimo fronte di guerra tra Lega e Cinque Stelle, con tanto di parolaccia messa nero su bianco da Di Maio nel duello a distanza, segno del clima nella maggioranza a tre giorni dal voto. Tutto comincia con la proposta targata Salvini. Toglierei l'abuso d'ufficio, ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati, dice il vicepremier leghista, trovando la pronta opposizione del pari grado Cinque Stelle, che contrattacca via Facebook. Se un sindaco agisce onestamente non ha nulla da temere. È forse un modo per chiedere il voto ai condannati, o per salvare qualche amico governatore da una condanna, scrive Di Maio, con riferimento neanche troppo velato all'inchiesta che coinvolge il presidente leghista della Lombardia, Tiglio Fontana. E non è l'unico accenno a situazioni reali. Il prossimo passo quale sarà, prosegue Di Maio, che per evitare di far dimettere un sottosegretario togliamo il reato di corruzione? Il finale del post lo lasciamo sospeso. Più lavoro e meno, puntini puntini, come potete leggere. Ma Salvini rilancia. Io voglio mettere in galera i ladri, ma voglio che i sindaci possano lavorare tranquillamente. C'è paura di firmare atti, aprire cantieri, sistemare scuole e ospedali. E a ruolo, a sostegno della sua tesi, il presidente dell'anticorruzione è lo stesso premier. Anche loro sostengono che l'abuso d'ufficio non funziona e va rivisto, dice Salvini, citando passaggi di interviste passate in cui sia Cantone che Conte sottolineavano i punti critici del reato in questione. Per i 5 Stelle è una retromarcia, ora parla di modifiche, non più di abolizione. Quando un ministro della Repubblica dice che vuole abolire l'abuso d'ufficio e ha il presidente della regione Lombardia indagato per abuso d'ufficio, per me non è che è una questione sua soltanto. Sta dando un pessimo segnale a tutto il paese e mi fa piacere che abbia fatto marcia indietro. Vogliamo andare avanti con il governo, ma da lunedì la Lega dovrà essere più ragionevole, avverte Di Maio. A me sembra che stia chiedendo il voto per dire vogliamo più forza per buttare giù questo governo. E il sospetto che accompagna le ultime ore di campagna elettorale si proietta sul dopo voto, alimentato dagli scontri continui e dalle parole ripetute in questi giorni dal sottosegretario leghista Giorgetti. Così non si va avanti, ma Salvini taglia corto. Per il governo non cambia niente, non ho tempo per offenderlo. Questo è quello che sta succedendo dalle parti del governo, ma ovviamente le reazioni sono a catena. L'opposizione archivia rapidamente la sortita salviniana sull'abuso d'ufficio, parla di gioco al massacro e si concentra sulle ultime ore di campagna elettorale. Con Zingaretti, che domani chiude a Milano, certo che la Lega non sfonderà. La notte del 26 mi auguro di dire ce l'abbiamo fatta. Obiettivo è passare quota 20%, condizione necessaria per presentarsi in forze alle prossime elezioni politiche, quelle che i Dem considerano vicinissime. Perché per il PD il governo giallo-verde cadrà presto e cadrà sulle questioni economiche. Ma adesso, prima di tutto, si tratta di fermare l'onda populista e nazionalista. Preoccupazione analoga dal centrodestra con Silvio Berlusconi, che invoca un cambio di guida del paese, attacca i sovranisti, saranno all'angolo e non conteranno nulla, e chiede quindi di non votare per la Lega. Infine, da Torino lancia il suo personale appello elettorale ai militanti forzisti. Per la libertà siete autorizzati anche a telefonare a tutte le vecchie fidanzate e ai vecchi fidanzati. Perché la libertà ha più valore della gelosia. Poi apre una polemica con Giorgia Meloni, che dai Fratelli d'Italia guarda un'alleanza esclusiva con Salvini. Dite alla signora Meloni che con quella alleanza non raggiungerebbe mai i numeri per governare. replica dai Fratelli d'Italia, l'alleanza di Salvini con i Cinque Stelle al Capolinea. Domenica, dal voto, emergerà un'altra maggioranza e Salvini non potrà più nascondersi. Che si nasconda o no continua a essere il bersaglio della sinistra, con Fratoianni, che parla così. Io credo che Salvini abbia talmente alzato l'asticella della sua volgare e violenta campagna elettorale, in particolare contro i più deboli, che comincia a sbattere contro il muro. Fratoianni chiuderà domani a Roma la campagna elettorale della sinistra, mentre più Europa di Emma Bonino farà la sua chiusura a Milano. E ci sono in questi ultimi scampoli di campagna elettorale momenti di tensione, da nord a sud, a nord per una città, Genova, che ha sempre tenuto al suo ruolo di medaglia d'oro della resistenza, in cui però, essendo nelle liste elettorali anche Casa Pound, c'è stato un comizio di Casa Pound, e quello che ne è venuto fuori lo vedremo tra poco, e il sud con Palermo e tutta l'Italia, che oggi avrebbero dovuto ricordare concordemente il 27esimo anniversario della strage di Capace, dell'inizio di quella terribile stagione che ha portato anche alla morte dopo Falcone, la moglie e le persone della scorta, e di Paolo Borsellino, poche settimane dopo, e a sua volta della sua scorta. Ma vedremo tutto quello che è successo, purtroppo di divisivo, anche a Palermo. Prima però vediamo cos'è successo a Genova. I fumogeni lanciati dalla polizia e poi le cariche per allontanare manifestanti antifascisti dal blocco delle grate di metallo, piazzate poco distante dal comizio di Casa Pound. Per un paio d'ore, oggi pomeriggio a Genova, nella centrale Piazza Corvetto, è andata in scena la protesta di un migliaio di persone contro un gruppo di militanti del partito di estrema destra. Il fumo e l'odore acre dei lacrimogeni arriva fino a lì, tanto sono vicini due schieramenti. Le cariche della polizia e gli scontri con gli antifascisti che lanciavano pietre si spostano anche nelle vie limitrofe, in via Roma e in via Sarotti. La polizia in mezzo risponde con i fumogeni ai tentativi degli antifascisti di forzare il blocco. Un giornalista della Repubblica viene colpito a manganellate dalla polizia, nonostante si fosse fatto riconoscere dagli agenti. E' stato portato via in ambulanza, avrebbe alcune dita di una mano fratturata e un trauma al torace. Ci sono stati altri due feriti tra gli antagonisti che sono stati anche sottoposti al fermo di polizia. Questo è quello che è successo a Genova. A Palermo invece doveva essere una giornata di ricordo comune, di celebrazione comune, di commemorazione comune. Non è stato purtroppo così. Un anniversario che questa volta divide e spacca. La Repubblica si deve inchinare nel ricordo delle vittime e il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Ma oggi c'è chi diserta le celebrazioni ufficiali e chi contesta. Il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, accompagna il premier Conte fino alla soglia dell'aula bunker del Luciardone dove Falcone istruì il maxiprocesso contro Cosa Nostra e dove da anni si svolgono le cerimonie di ricordo. Poi fa dietro fronte e se ne va. Mi ero augurato che qualsiasi presenza istituzionale oggi non si trasformasse in occasione per comizi preelettorali. Purtroppo non è così, dice contestando la scaletta degli interventi che dà la parola solo ai rappresentanti del governo. Un forfè che viene dopo quello del governatore della Sicilia Musumeci e del presidente della Commissione regionale antimafia hanno trasformato il ricordo del giudice nel festino di Santa Rosalia, aveva scritto su Facebook Claudio Fava. Le assenze di certa sinistra non sono un'offesa a me ma alla memoria di Falcone, risponde dall'aula bunker il ministro dell'interno Salvini. La sorella di Falcone invita a spegnere le polemiche. La cosa bella sono questi giovani che vengono per parlare di lotta alla mafia, dice agli studenti arrivati da Civitavecchia con la nave della legalità. La giornata istituzionale scorre tra colore di fiori e dichiarazioni, mentre va in scena un altro film con contromanifestazioni e contestazioni. Il centro in passato, insieme ad Arci, Libera di Donciotti, studenti, associazione, partigiani, fanno un sittina capaci sul luogo della strage. A margine della giornata, il ministro dell'interno e quello dell'istruzione si sono incontrati in prefettura con la professoressa dell'istituto tecnico sospesa dopo una ricerca degli studenti in cui si paragonava il decreto sicurezza alle leggi razziali. È stato un bel confronto, ha detto lei, che comunque lunedì, a fine della sospensione, tornerà in classe. Questo è quello che succede nel penultimo giorno di campagna elettorale. Da noi, perché per le elezioni europee ci sono già le operazioni di voto che si stanno concludendo in due paesi che, come è loro tradizione, hanno votato di giovedì. Ma se l'Olanda attende di sapere, tra l'altro ci saranno gli exit poll a metà della serata e come sono andate le varie forze, con particolare attenzione alle due di destra, in Gran Bretagna il voto è anche probabilmente il preludio alle dimissioni. Già domani, dicono tante fonti, di Teresa May. Tre anni fa nessuno avrebbe scommesso un penni su quanto sta accadendo oltremanica, ma tant'è Brexit in stallo e il Regno Unito costretto a votare per rinnovare l'assise di Strasburgo da cui voleva uscire la Premier sotto assedio e su questo non si hanno grossi dubbi. Domani Teresa May dovrebbe vedere il comitato che riunisce i deputati conservatori che non fanno parte del governo, ma anche qui l'area di resa dei conti legata alla Brexit è più che reale. Il suo ultimo piano per far passare l'accordo d'uscita del regno di Elisabetta II dall'Unione Europea ha fatto più danni che quelli già bocciati dal Parlamento per ben tre volte. La richiesta della May di scendere a compromessi ulteriori sia con il suo partito che con i laboristi di Corbyn è stata infatti respinta senza appello. Un altro ministro, la conservatrice Andrea Lezom, ieri ha lasciato il governo e ha inniscato un mini rimpasto che non cambia di molto la situazione. La Premier domani potrebbe dimettersi o la prossima settimana farsi sfiduciare dal Parlamento nonostante la legge non lo permetta. La mail è stata già a dicembre sfiduciata e prima del prossimo dicembre non le si potrà votare di nuovo contro. E proprio i conservatori già pensano ad una legge da approvare velocemente che ne modifichi i tempi di applicazione. Insomma, il caos annunciato da mesi perde colpi. Anche l'ipotesi che la Premier torni in Parlamento il 3 giugno a riproporre la sua linea sulla Brexit. Quel giorno arriva a Londra Donald Trump, che comunque sarà ricevuto proprio dalla May. E Jeremy Corbyn, leader laborista visto insieme alla May come responsabile di quanto stanno vivendo i sudditi della regina per identica, poca chiarezza e reale decisionalità sulla Brexit, prova ad evocare la possibilità di tornare per l'ennesima volta alle urne. Tra poche settimane, ma già con il voto di oggi per i due partiti storicamente alla guida del regno, si profila una debacle memorabile. Gli ultimi sondaggi infatti vedono i pro-Brexit di Nigel Farage in testa con il 35%, a seguire i liberal democratici tra il 16 e il 20% delle preferenze e poi a chiudere i laboristi con il 15% prima dei conservatori della May crollati ad un imbarazzante 9% dei voti. Parliamo tanto di votazioni, di elezioni, ma solo oggi, dopo un lunghissimo processo elettorale, ci sono i risultati delle elezioni nella più grande democrazia del mondo, che poi è la Federazione Indiana. Ebbene, alle elezioni indiane c'è stata una vittoria schiacciante per il premier uscente, Narenda Modi, il leader del partito nazionalista Indy. A spoglio non ancora concluso, Modi è accreditato di una netta maggioranza in Parlamento con almeno 302 seggi, molto oltre i 272 necessari per governare. Al voto sono andate, pensate, 900 milioni di persone. Tracollo invece per la dinastia Gandhi, il partito del congresso guidato dall'ultimo erede Raul Gandhi è fermo a soli 51 seggi. A sostenere il premier uscente, nonostante le difficoltà di un'economia che comunque procede al 6% annuo, è stata l'aggressiva politica estera e di sicurezza nei confronti del vicino rivale di sempre, il Pakistan. Ma ora torniamo in Italia per vedere che ci sono dei dati che sono in parte controversi, che danno soddisfazione a chi dice che si stanno creando posti di lavoro più stabili, ma segnalano anche l'inquietudine di chi dice che questi posti di lavoro però diminuiscono, non aumentano. La precarietà diminuisce ma i datori di lavoro assumono di meno. Sembra un ossimoro ma è la fotografia che ci consegna oggi l'Inps nel suo osservatorio sul precariato. Nel corso dei primi tre mesi di quest'anno le stabilizzazioni dei lavoratori sono raddoppiate, le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a indeterminato sono passate infatti da 125.000 a 219.000, un aumento del 75%. Si tratterebbe, secondo il Movimento 5 Stelle, dei frutti del decreto dignità, la prima misura partorita dal governo giallo-verde, voluta fortemente dal ministro del lavoro Di Maio, che lo presentò come una vera e propria rottamazione del Jobs Act di Matteo Renzi. Una dichiarazione di guerra al precariato e al supplizio del rinnovo all'infinito per i lavoratori a cui si restituiva stabilità e dignità, appunto. Con un messaggio affidato a Facebook, il vice ministro Grillino oggi esulta «Mese dopo mese i dati sul mondo del lavoro mi rendono più orgoglioso di quanto stiamo facendo» e poi l'affondo. Volevano convincerci che vivere di contratti a termine è possibile, che bisognava farci l'abitudine perché così va il mondo e non si può tornare indietro. Secondo il decreto dignità, lo ricordiamo, i contratti a termine avviati da luglio 2018 devono infatti durare un massimo di 24 mesi e prorogati 4 volte. Significa che l'azienda che assume un dipendente con inquadramento precario dopo 12 mesi deve specificare nel contratto la causale, cioè il motivo per cui è stata utilizzata l'assunzione a tempo determinato al posto di quella stabile. Se manca la causale, il contratto a termine deve essere trasformato in tempo indeterminato. Commenti positivi arrivano anche dalla CISL. Nei dati c'è una tendenza che vede aumentare i contratti stabili e ridursi i contratti a termine. Dice il sindacato che avverte, se è vero che la precarietà diminuisce, è altrettanto vero che i datori di lavoro in Italia assumono di meno. Le assunzioni rallentano in calo del 9,3% rispetto allo scorso anno. Un segno che la ripresa economica ha scalato marcia, evidenza confermata anche dal fatto che le ore di cassa integrazione ad aprile sono aumentate del 30% rispetto al 2018. Per la senatrice PD Deborah Serracchiani è il segnale di un totale fallimento delle politiche del lavoro del governo, mentre il forzista Lucio Malan commenta è un segnale molto preoccupante e un enorme peso per le casse dell'Inps. Ma parliamo di chi le casse le utilizza diversamente, perché ha fatto scalpore il suo gesto, poi nei giorni scorsi se ne è parlato di meno o non se ne è parlato più per niente. Ma che succede dopo quel gesto appunto clamoroso delle lemosiniere del Papa, che era sceso come si sa a riallacciare la corrente per quella enorme casa che come si sa è abitata da occupanti? La Procura di Roma non ha alcuna intenzione di precipitarsi a interrogare il più illustre ladro di corrente che le sia mai capitato. Invece il cardinale polacco Konrad Krajewski, l'elemosiniere del Papa, che l'11 maggio ha riattivato la corrente nel palazzo occupato prevalentemente da stranieri in via di Santa Croce in Gerusalemme, vorrebbe poter correre subito dai magistrati prima ancora di un'eventuale convocazione per dire che non ha violato alcuna legge perché non c'erano sigilli a proteggere il contatore né cartelli che indicassero la proprietà privata né qualunque altro divieto. Lo ha spiegato ai suoi collaboratori, c'era solo un lucchetto davanti al quale proprio non potevo fermarmi, l'ho fatto saltare. Così, grazie a sua eminenza, gli occupanti abusivi hanno riavuto l'acqua calda e la luce, staccate cinque giorni prima da Areti, la società di Acea che gestisce la distribuzione dell'energia elettrica, a fronte di una morosità di oltre 300 mila euro. Areti ha presentato ai carabinieri una denuncia contro i gnoti, anche se l'elemosiniere ha rivendicato la paternità di quel gesto compiuto a 800 metri dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, la cattedrale della Diocesi di Roma. Dall'elemosineria apostolica, l'istituzione vaticana che coordina la carità del Papa, il cardinale Krajewski ritiene di non doversi giustificare. Non è il Vaticano che può giudicarmi, non sono un diplomatico, un nunzio, ma l'elemosiniere di Francesco, il vescovo di Roma, rappresento il suo braccio caritatevole a tutti gli effetti. Ho agito per suo conto per il bene di quasi 500 persone, 100 delle quali sono minori. Abusivi sì, ma non è importante, era gente in difficoltà e dovevo aiutarla. Ho fatto bene? Ho fatto male? Io seguo il Vangelo e il Vangelo mi dice che ho fatto bene. Prima di parlare di sigilli infranti ci si dovrebbe informare e non ho mai contato sull'immunità. Se col commento della Procura di Roma la vicenda è più complessa di come è stata presentata. Questo per le notizie italiane e internazionali. Poi c'è una che riguarda il mondo dello sport, ma anche quello della finanza. Lo sport è lo sport più popolare, il calcio. Mentre siamo a tre giorni dall'ultima giornata del campionato in cui quattro squadre lottano per due posti in Champions League e tre per non essere l'ultima retrocessa, c'è chi è già campione d'Italia e deve pensare però al futuro perché, come si sa, la Juventus ha deciso di divorziare dal suo tecnico vincente, cinque scudetti di fila, Massimiliano Allegri. E oggi la voce che è rimbalzata ovunque è quella del possibile arrivo, che sarebbe il Cristiano Ronaldo della panchina di Pep Guardiola, l'allenatore che è stato un grande giocatore anche in Italia, peraltro, e che ha reso memorabile il Barcellona del Tiki Taka, che ha, come sappiamo, stravinto anche a Monaco e adesso stravince a Manchester, lato City. Quest'allenatore potrebbe arrivare appunto sulla panchina della Juve, anche se ci sono conferme, smentite, indizi e voci discordanti. E questo ha portato la Juve, quotata in borsa, a fare sala di scendi a Piazza Affari. Guardiola Josep, detto Pep, come uno squillo di tromba che entra acuto, improvviso, nei discorsi del calcio italiano. E' l'allenatore per eccellenza, usato da chi vuole punire l'atteggiamento di quei tecnici presuntuosi e poco vincenti. Ma chi ti credi di essere? Guardiola? L'allenatore catalano, creatore del Barcellona del Tiki Taka, fino a qualche ora fa ha continuato a ripetere di voler rimanere dov'è, al Manchester City, anche nel caso in cui il club venisse penalizzato dalla UEFA per aver violato il fair play finanziario, con la conseguente perdita del diritto di disputare la prossima Champions League. E allora cosa ha spinto a dare per fatto l'affare che vedrebbe Guardiola allenare la Juventus la prossima stagione? Eh sì, perché si sono fatte cifre e date. Secondo l'agenzia AGI, tutto sarebbe definito. 24 milioni a stagione per 4 anni al tecnico, firma del contratto il 4 giugno, presentazione il 14, data per cui la Juventus avrebbe addirittura già cancellato le visite guidate al Museo Bianconero, proprio per accogliere Guardiola senza fastidi. Ma questa dovizia dei particolari ha fatto scattare la replica piccata del Manchester City, che attraverso un consigliere del CDA del club inglese, ha puntualizzato che Guardiola ribadisce di voler rimanere in Inghilterra. E visto che il tecnico ha altri due anni di contratto, è impossibile che la Juventus, che è un club correttissimo, abbia condotto una trattativa sotterranea con Guardiola senza avvertire il City. Fatto sta che in borsa il titolo della Juventus è salito del 5%, per poi chiudere il rosso sotto dello 0-24. Questi strappi in borsa del club bianconero hanno fatto suonare un campanello alla Consob, che sta analizzando sia l'operatività sul titolo, cioè chi compra e chi vende, sia i flussi di informazioni che lo stanno muovendo. È un dato di fatto che c'è la smentita del Manchester City, è un dato di fatto perché però né Guardiola né la Juve hanno oggi parlato ufficialmente a riguardo. Vedremo se si tratta di un tormentone tipico del calcio parlato o se c'è sostanza. Dopo di noi, Lilli Gruber a 8,5, ospita Matteo Salvini, c'è anche Marianna Aprile, poi c'è Piazza Pulita, ebbene tra gli ospiti di Corrado Formigli ci sono Luigi Di Maio, da una parte c'è l'uno e da una parte c'è l'altro, sempre si marcano direttamente, ma poi anche Mario Monti, Emma Bonino, Roberto Maroni e Armando Spataro. Noi ci fermiamo. Infine le borse, tutte in negativo, ci sono venti poco propizi, vedremo anche, tra l'altro il petrolio scende molto, sempre sulla vicenda delle contrapposizioni ai Dazi, sulla Cina ma anche sull'Iran. Vediamo Piazza Fari, meno 2,12% e con lo spread a quota 276, altrettanto negativa a Wall Street, Dow Jones meno 1,58, Nasdaq 2,02. è tutto, Gruber, Formigli, ci vediamo domani sera, buonasera. Grazie. Grazie a tutti.